Maria Domenica D'Alessandro, 54 anni, avvocato, direttrice della Scuola Forense del Molise e la passione per la politica. La sua mission parte da un asserto imprescindibile da tutto il resto, centralità alle persone. Questa mattina la sua prima uscita pubblica, circondata dalla coalizione, da Alberto Tramontano, l'uomo che ha fatto un passo di lato perché il centrodestra corresse unito e ritrovarse la sinergia utile ad una campagna elettorale senza veleni, ma finalizzata al bene collettivo. Consapevole che Campobasso è un capologo di regione, con tutte le responsabilità e le opportunità che questo comporta, sono altrettanto cosciente del fatto che chi si è succeduto nelle varie legislature si è candidato illustrando programmi, squadra, partiti, liste, movimenti che li hanno sostenuti, azioni ovvie e naturali. Io, addettola ad Alessandro, anzi noi vogliamo ripartire dalle persone. Entusiasmo generale rispetto alla sua persona, professionista seria, per nulla propensa, giochi e dinamiche politiche di poca trasparenza. La sua espressione di serietà e di donna tutta ad un pezzo fanno di lei il valore aggiunto della coalizione. Tutte le competizioni sono impegnative, però dal messaggio che mi è pervenuto dalla nostra candidata Maria Domenica D'Alessandro, direi che è un impegno sostenibile e il centrodestra andrà a vincere, dovrà vincere. Il valore aggiunto di questa candidata qual è? Il valore aggiunto è che non è un abitué della politica, questo è un valore aggiunto, che è una professionista che viene dal mondo, il cosetto mondo delle professioni, della società civile, come si dice, e che il centrodestra abbia fatto velocemente coalizione, si sia coaculato attorno alla sua figura. Questo sarà un valore aggiunto. Teme più l'assenzionismo o l'ipotesi di balottaggio? In realtà temo più l'assenzionismo e vorrei che i campobassani capissero quanto è importante decidere le sorti della propria città. Per la candidata di centrodestra è prioritario trasmettere prima di tutto l'entusiasmo che si è perso negli anni, convincendo i cittadini che c'è una speranza per restituire alla difficile situazione economica e sociale di Campobasso la dignità e il benessere che merita. Noi abbiamo solo voglia di lavorare, ha concluso la candidata a sindaco. Se i cittadini lo vorranno, siamo pronti a governare questa città. Grazie. 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 Grazie.